Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Minorenne nasconde la droga negli slip arrestato dai carabinieri alla stazione ferroviaria di Fano Novità sul crollo del ponte in A14, per gli operai rimasti feriti La campata si era già spostata di due centimetri prima del collasso Scontro in via Roma tra auto e scooter, ferito un sedicenne fanese Telecamere installate sul semaforo di Viale Primo Maggio, continua la strage di multe per gli automobilisti Al parco del ventaglio di Iesi torna l'undicesima edizione della rappresentazione della passione e morte di Gesù Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca I carabinieri di Fano hanno arrestato un 17enne di origini marocchine Che nascondeva negli slip duetti di marijuana Sentiamo Forze dell'ordine sempre in costante azione di controllo del territorio E monitoraggio di aree sensibili sul fronte dello spaccio e del traffico di stupefacenti Nodi di scambio come stazioni ferroviarie e di corriere Sono sempre sotto l'occhio vigile degli agenti Nella serata di ieri i carabinieri del nucleo radiomobile di Fano Durante un controllo alla stazione ferroviaria Hanno notato sulla banchina un fare sospetto di un giovane che apparentemente era in attesa di un qualche treno Gli agenti hanno deciso così di avvicinarsi ed identificarlo ma una volta vicino al ragazzo Si sono accorti di un sospetto rigonfiamento nei pressi della patta dei pantaloni Messo alle strette dai carabinieri il ragazzo dopo una debole resistenza Tira fuori così dalla tasca un bilancino di precisione A quel punto la caserma è lì a poche decine di metri da loro E così i militari decidono di portarlo negli uffici per una perquisizione più approfondita Non potendo far altro il ragazzo cittadino italiano di origini marocchine 17enne Non potendo far altro il ragazzo 17enne cittadino italiano di origini marocchine incensurato Dopo aver frugato negli slip ha estratto spontaneamente un involucro con 240 grammi di marijuana Già pronta per essere ceduta in piccole dosi Ora per lui è scattato l'arresto in flagranza di reato per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti E portato al centro di prima accoglienza del tribunale dei minori delle Marche in attesa di giudizio di convalida E adesso torniamo a parlare del crollo del ponte avvenuto nel tratto dell'A14 tra Loreto e Ancona Che ha provocato la morte di due automobilisti Un operaio tra quelli a lavoro la mattina del 9 marzo scorso è stato sentito in commissione incidenti sul lavoro del Senato Mentre stavamo alzando la struttura eravamo arrivati a circa 30 centimetri ha riferito l'uomo E un ingegnere mi ha detto che la campata centrale si era spostata di un paio di centimetri Ma poi insieme all'ingegnere Vita Antonio Sepe sono stati fatti altri controlli e tutto era tornato a posto Erano le 12.20 siamo andati a mangiare e poco più tardi abbiamo ripreso i lavori per il sollevamento finale Poi ha detto mentre parlavamo con un ingegnere è avvenuto il collasso Non c'era nessuna anomalia, ha aggiunto un altro operaio Stavamo lavorando con tranquillità anche dopo che abbiamo saputo che c'era un leggero spostamento Per la senatrice Camilla Fabri, presidente della commissione d'inchiesta è stato imposto di secretare la seduta Per garantire la genuinità delle prove vista la contraddizione fra quanto riferito dagli operai E quanto invece affermato dai tecnici della ditta responsabile dell'esecuzione dei lavori Ancora cronaca, un incidente tra auto e scooter si è verificato questa mattina intorno alle 7.45 in via Roma a Fano Un sedicenne fanese si stava recando a scuola in sella al suo motorino Quando superando la coda di automobili in direzione Montemare Non si era accorto che un furgone poco più avanti stava rallentando per consentire ad un'auto Preveniente da via Togliatti di mettersi in via Roma Il sedicenne ha così proseguito la sua corsa e dopo aver superato il mezzo E finito contro l'auto un Alfa 147 condotta da una fanese di 40 anni Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo a Santa Croce di Fano E i vicili urbani per i rilievi di legge Il giovane ha riportato escoriazioni e contusioni Cambiamo argomento Questa mattina Lino Balestra è tornato in Viale 1 maggio a Fano Per verificare la durata dello scatto del semaforo da giallo a rosso Dopo le proteste degli automobilisti ma anche dopo le centinaia di multe elevate In soli tre mesi Possiamo tranquillamente definirlo ormai il semaforo della discordia E' il semaforo dotato di telecamera autostop all'incrocio tra Viale 1 maggio Via Girolamo da Fano e Viale Carducci Per tutti il semaforo dell'Ido Il perno della discordia sono le telecamere appunto Che stanno spaccando in due i cittadini anche la politica Tra detrattori e sostenitori Nulla da eccepire ed in questo si è tutti d'accordo Sul fatto che passare col rosso sia una delle infrazioni al codice della strada più importante E soprattutto ad altissimo tasso di pericolosità E quindi i trasgressori vanno puniti e perseguiti Le sanzioni lo ricordiamo vanno da 160 euro Che passano a 200 per le infrazioni notturne E la decurtazione di 6 punti sulla patente Che si raddoppiano in caso di neopatentati Ma ciò che ha fatto scalpore in questi giorni Sono stati i dati relativi al numero delle infrazioni Ben 600 nei primi tre mesi dell'anno Ma se contiamo anche il mese di dicembre Arriviamo all'incredibile cifra di 839 infrazioni Il che da un semplice calcolo significa che bene 10 volte al giorno Qualcuno passa di lì con il rosso pieno Questo dato ha fatto saltare dalla sedia i 5 stelle di Fano Che non credono ad un esercito di kamikaze Che si lancia in mezzo all'incrocio Sfidando consciamente o inconsciamente la sorte Ma che un dato così sorprendente Faccia supporre che la particolare complessità dell'incrocio In molti casi non permetta un arresto definitivo In prossimità dello scatto del semaforo Da giallo a rosso Vediamo le tempistiche quindi Con questi tempi i 5 stelle Evidenziano che si possono creare così Situazioni di passaggio con rosso Quasi non volute Soprattutto nelle ore di punta Quando questo complesso incrocio Subisce una pressione di traffico Quasi ingestibile Rivediamole quindi Questo impianto semaforico È destinato a battere tutti i record Se tanto mi dà tanto La palma del più sanzionato Spetta ad un commerciante di pesce Che ne ha collezionate ben 7 Per un totale di oltre 1000 euro Ma c'è chi ne ha beccate due Anche nello stesso giorno Le immagini parlano chiaro Difficile contestare l'accaduto La volontarietà però Di fare l'infrazione è un'altra cosa I sostenitori dicono Che la pericolosità dell'infrazione Giustifica questi numeri Perché non bisogna aspettare il morto Per correre ai ripari Sacro santa verità Ma chi come i pentastellati Vuol vedere più chiaro su questo aspetto Sostiene che servono Maggiori informazioni per i cittadini E cartelli con l'indicazione precisa Che le immagini servono Per sanzionare chi passa col rosso Ben visibili e più vicini all'incrocio Sarebbero un bel deterrente Già di per sé E nuovi boschi nella città di Pesaro Per 19 ettari di terreni L'annuncio dato dal sindaco Matteo Ricci E dall'assessore Rito Briglia A metà mandato Comincia a concretizzarsi Abbiamo selezionato Spiegano 16 aree potenzialmente idonee Dopo sopralluoghi E dopo aver comparato caratteristiche Aspetti urbanistici E disponibilità comunale L'operazione si collega ai rimboschimenti Che dovrà realizzare autostrade Su una superficie appunto di 19 ettari Nell'ambito delle opere compensative Alla terza corsia della 14 300.000 a 350.000 euro invece Saranno destinati alla riqualificazione Del parco Miralfiore Sempre a Pesaro L'obiettivo sarà quello di creare Un presidio attivo Capace di attirare i cittadini Grazie a diverse iniziative ed eventi I principali beneficiari Saranno i giovani Tra i 16 e i 35 anni E i bambini Per i quali verranno organizzati Laboratori e attività Torniamo a Fano Dopo la fusione tra Aset Spa e Aset Holding L'ormai ex presidente Teodosio Auspici Ha illustrato alla stampa Il bilancio dell'azienda incorporata Che dopo 14 anni di vita Chiude con ben 4 milioni di utili È stato un percorso lungo Arrivare fin qui Però carico di soddisfazioni per voi Sicuramente sì È stato un percorso che ha portato La holding alla fusione Il contributo sono convinto Della holding che sia stato fondamentale Contestualmente in questo percorso appunto Che è anche abbastanza difficile della fusione Sono stati portati avanti tutti quei servizi Ma senza preoccuparsi solo dell'ordinario Ma anche dello straordinario Cioè vuol dire l'implementazione di nuovi servizi Si è guardato avanti e al futuro I suoi colleghi adesso affronterete nuove sfide C'è un cambiamento anche di Così proprio di ordinarità Che cosa si porta dentro di questa esperienza Vissuta qui in questi anni? Ma prima di tutto il rapporto umano Con tante persone Che si confrontano in una platea Di servizi molto ampie Quindi ci vuole anche capacità, competenze Un rapporto, una società a misura d'uomo L'Aset Holding sicuramente Anche per il numero più ridotto rispetto alla Spa Ma in più mi porto dentro Con me insomma L'attenzione, la difesa del bene comune Del patrimonio di tutti noi Perché se la Holding ha come ha Le reti, ha avuto le reti Le ha avute dal comune Io penso che questo sia un patrimonio Che non poteva, non potrà E non deve essere disperso E va difeso Ecco, questo mi porto la coscienza a posto Di aver fatto di tutto per difenderlo E torniamo a parlare del terremoto Che nei mesi scorsi ha colpito duramente Le zone del centro Italia Perché i mezzi dell'esercito Sono partiti alla volta di Castelluccio di Norcia Per aiutare gli agricoltori Nella semina della lenticchia Al servizio di Filippo Pucci La semina della lenticchia Castelluccio di Norcia Muove i primi passi Intorno alle 13.30 di ieri Domenica 2 aprile I mezzi dell'esercito Sono partiti dal campo base di Norcia Alla volta del borgo di montagna Distrutto dal sisma Per trasferire ben 16 seminatrici Tre trattori a cingoli E mezzi agricoli utili appunto Alla semina Che dà la vita Insieme alla flora locale La cosiddetta fiorita Questa mattina invece Sono partiti Gli oltre 20 mezzi agricoli Con tutte le attrezzature Per la preparazione del terreno A seguire un secondo viaggio Con oltre 400 quintali di sementi Preparati dagli agricoltori I mezzi dell'esercito Hanno guidato il tragitto Che si snoda a lungo 90 km Attraverso Lazio e Marche Fino a Pretare di Arquata del Tronto Infine il sindaco Nicola Lemanno Conclude Se il problema della semina È stato risolto Adesso dobbiamo poter far vedere In tutto il mondo Lo spettacolo della fioritura Di Castelluccio E a proposito del terremoto Ad oggi sono 162 Le proposte pervenute All'Erapa Marche In risposta all'avviso pubblico Di manifestazione di interesse Per l'acquisto di unità immobiliari In vendute Da utilizzare Per l'emergenza abitativa Legata al sisma Al momento le Marche Sono l'unica regione terremotata Che ha attivato Questo percorso virtuoso E che consentirà A molti cittadini Di recuperare Una condizione di normalità Riavvicinandosi Ai territori di provenienza Le offerte avanzate Da persone fisiche Imprese di costruzione O cooperative Riguardano una settantina di comuni E si stimano All'incirca Un migliaio di alloggi Da mettere a disposizione Entrò questa settimana L'Erapa costituirà Una commissione dedicata E già dalla prossima settimana Verranno analizzate Tutte le proposte Il 9 aprile Domenica delle Palme Torna al parco Del dentaglio di Iesi La rappresentazione Della passione E morte di Gesù Si tratta dell'undicesima edizione Della sacra rappresentazione Della passione e morte di Gesù L'appuntamento sarà alle 21 Al parco del Ventaglio Che è un parco suggestivo Di Iesi Che il Comune ci concede Per questa iniziativa Ricordiamo anche che cosa Si svolgerà nel dettaglio In particolare Per chi non dovesse Conoscere ancora Questa manifestazione Ecco Noi illustriamo I momenti Della settimana santa Tutta la sacra rappresentazione Della passione Della morte di Gesù Ripresa fedelmente Dai testi del Vangelo Che quest'anno sarà a Matteo Siete anche diversi Che organizzano questo evento E quindi che si impegnano Beh il gruppo ristretto Che si impegna Siamo 5-6 persone Però poi I partecipanti sono tantissimi In grosso modo Siamo 200 Sono 200 figuranti Tutti naturalmente volontari Che si impegnano Chi più chi meno A seconda della disponibilità A seconda del ruolo Che competono Poi all'interno Di questi 200 volontari Ci sono anche Quelli che si occupano Delle luci Dei costumi Delle sceneggiature Delle scenegografie Che sono imponenti Sono tutte fatte da noi Le immagini che si vedono Sono tutte fatte da noi Non abbiamo nessun professionista Che ci supporta O professionisti Che però Operano a livello di volontariato Vi aspettiamo Domenica 9 aprile La Domenica delle Palme Alle 21 A Iesi Sperando che il tempo Ci assista Per vedere Questa rappresentazione E vivere un momento Di raccoglimento religioso Per chi è cristiano E per chi non lo è L'Università di Urbino Esprime il proprio cordoglio Per la scomparsa Del politologo Giovanni Sartori Al quale L'Ateneo Aveva conferito Una laurea Ad onore In sociologia Al 25 ottobre 2015 Accettai la laurea A Urbino Perché Urbino Merita Disse Sartori Un paio di anni fa Ricordando il giorno In cui gli venne attribuita La massima onorificenza Accademica Da parte dell'allora Rettore Giovanni Bogliolo In occasione Dei 500 anni Dell'Università Urbinate Invece Nell'ambito Delle iniziative Dal titolo Primavera Della legalità Domani mattina A Fano Nella Sala San Michele Si svolgerà Un incontro Organizzato dalla CGL Sul contrasto All'illegalità Nell'agricoltura In particolare Nelle filiere agricole Anche se il nostro territorio Si legge in una nota del sindacato Non risultano i fenomeni Presenti in altre regioni La prevenzione è fondamentale E nessuno può dichiararsi Immune Dalle cosiddette Agromafie Durante l'iniziativa Prevista dalle 9 Alle ore 12 Interverranno anche Esperti in materia Come docenti All'Università di Urbino E i presidenti Del Consorzio Marche Biologiche E della Coldiretti Marche Con questa notizia Chiudiamo qui Il nostro telegiornale Vi ricordo anche Il numero di telefono Per le vostre segnalazioni 338 49 68 250 Grazie per la vostra attenzione E arrivederci a domani Grazie per la vostra attenzione Grazie per la vostra attenzione